Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto Bose, parliamo di Sound Dock Portable, questo sistema audio portatile, come dice il nome stesso, è in grado di accogliere il melafonino in pratica e di sonorizzarlo senza praticamente batter ciglio. La cosa interessante è il fatto appunto di avere, per quanto riguarda poi la qualità sonora e la capacità di durata, ottime prestazioni, almeno questo stand ovviamente sulla carta. Procediamo adesso quindi all'apertura del pacchetto, vediamo cos'è contenuto così, procediamo a vedere e a popolare la nostra immagine. Sound Dock Portable, Digital Music System, quindi immagino siano poi le istruzioni, francamente non ho visto sto giro. Thank you, sì vi ringraziano in pratica per aver acquistato Sound Dock Portable, vi danno praticamente le informazioni essenziali. Bose Corporation, un po' di sacchettini che male non fanno. sistema di alimentazione, spinotto europeo, ma c'è anche lo spinotto inglese, andiamo poi a vedere, register your product now, imballaggio decisamente interessante come potete vedere, quindi anche se procedete a un acquisto online non dovrete preoccuparvi eccessivamente durante il trasporto vero e proprio. Vediamo adesso di estrarre il prodottino. All'interno della confezione non c'è altro. facciamo un po' di spazio perché ci siamo allargati troppo con gli accessori per farvi vedere un attimo i dettagli del caso. Questo è il nostro prodottino, marchio Bose, abbiamo una finitura comunque decisamente gradevole da un punto di vista estetico, sarà da noi messo in funzione e vedremo quindi un attimo come si comporta, dopodiché condivideremo con voi le sensazioni appunto in merito all'utilizzo di questa SoundDoc Portable. Lo spacchettamento termina così, a brevissima galleria fotografica, dopodiché metteremo in funzione il tutto, vedremo appunto come si comporta. Vi ringrazio dell'attenzione, ora ho terminato, ci si vede online e mi raccomando seguiteci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino.